Eccola il primo piano di questa cicciotella, sì, ciao, sei buonissima, sei buonissima, sì, è cicciotella, eccola, chi c'è? Lei è proprio adattissima secondo me per una casa, una vita in famiglia, molto tranquilla, molto buona. Buongiorno a tutti, siamo in Canile, lei è una nuova cagnolina che siamo venuti a conoscere, che è minuccia di cinque anni, molto buona, un po' cicciotella. Vieni, vieni. Che sta assaporando un po' di libertà. Che senti? C'è un po' di libertà, è un po' di libertà, è un po' di libertà. Cammina anche al guinzaglio, eh, mi sembra che la porta di lei è rotta, però la stavo andando a prendere un altro cane. Stai esplorando tutto, ha pure tirato fuori la codina, guarda, sta correndo. Vai, 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 vai. E lei lo sta facendo. Io sto facendo il video in diretta. Sì, sto facendo il video in diretta. Sta sbizzarrendo un po'. ciao vieni vieni pipì chi senti? ciao piacisco di insola all'inizio appena arrivata aveva la codina tra le gambe però adesso già è più a suo agio ci scusi in sala pure adesso passiamo alle foto che pubblicheremo nei prossimi giorni non ha nome quindi se avete suggerimenti di qualche nome particolare noi sono ben accetti perché dobbiamo pensarci un po'